Ogni tanto, sono altro e diverso. Ogni tanto mi piace cantare canzoni sui personaggi che ho conosciuto, mi hanno colpito in varie cose. Questo è un paesale, quasi un paesale, un curioso, strano, che era stato in seminario e quindi sapeva di latino, sapeva un po' di latino, sapeva un po' di tedesco. Era sempre leggermente alterato dalle bevande alcoliche. Faceva una vita così, lavorava spesso a opera, come si dice, andava a portare le fascine, faceva i piastrellisti. E' venuto in mente recentemente perché sotto la casa mia abitava una signorina, una signora, non so, esercitava quello che viene definito il mestiere più antico del mondo. Ma sia lei che lui erano già avanzati d'età e lei viveva in questa casa, in cui i pavimenti vivevano, mi raccontava che ogni tanto attiravassero un asse dal pavimento per scaldarsi, perché non aveva veramente riscaldamento, quindi una vita miseria. e lui andava a bussare molto tempo alla porta di questo, per trovare, non so se esso quanto potesse fare, però forse un'idea, un'illusione, un ricordo, un'amicizia. E cosa offriva a questa, a questa, a questa, a Scott? Voi direte, voi direte delle fanfalline, voi direte degli assegni sontuosi, dei posti per fare le fiction, no. Qui bussavo, sentivo, mi diceva, aprimi, aprimi, ti ho portato alla mortadella che ti piaceva. E questa generosa offerta di mortadella che mi piaceva tanto mi ha commotto in un certo senso. O se non so se facessero sesso prima o dopo la mortadella, se divorassero la mortadella gonosamente assieme. E poi, comunque, comunque, ho pensato di scrivere una canzone su questo personaggio. e raccontando solo più o meno così.